Le prime esplorazioni delle vaste terre dell'ex Louisiana francese, all'inizio dell'Ottocento, permisero agli abitanti della East Coast di scoprire la straordinaria bellezza naturale di queste regioni. I due milioni di chilometri quadrati di terre per lo più sconosciute, oltre il fiume Missouri e al di là delle montagne rocciose, erano stati venduti da Napoleone agli Stati Uniti il 30 aprile 1803, ma pochi sapevano davvero cosa aspettarsi. La fotografia era ancora agli albori, mentre la litografia e le tecniche di incisione avevano limiti evidenti. Inoltre, le missioni esplorative di grande portata, con il loro inevitabile rischio, non prevedevano la presenza di artisti e illustratori. I rapporti redatti su questi nuovi territori erano più scientifici che narrativi, e i bozzetti e schizzi servivano principalmente alla creazione di mappe e cartine piuttosto che a catturare la magnificenza dei paesaggi naturali. Per il grande pubblico, dunque, era raro ammirare la maestosità delle praterie infinite e l'imponenza delle montagne rocciose, con i loro laghi, foreste incontaminate e valichi ghiacciati. Fu solo con le esplorazioni di metà ottocento, più sicure rispetto alle prime incursioni in territori ostili che artisti, incisori e pittori si unirono alle spedizioni. Il loro obiettivo era fissare su tela e carta l'essenza del paesaggio dell'Ovest americano e presentarla per la prima volta al pubblico dell'Est, affamato di nuove meraviglie. Fra questi artisti, Albert Bierstadt si distinse per la sua capacità di catturare lo spirito del territorio americano, avvolgendolo fin da subito in un'aura mistica e affascinante. Albert Bierstadt nacque a Solingen, nella Prussia, nel 1830, ma la sua famiglia emigrò presto negli Stati Uniti, stabilendosi a New Bedford, in Massachusetts. Qui, il giovane Albert, già inclinato verso la pittura, si unì al fratello Edward, noto fotografo di immagini stereoscopiche e incisore, iniziando a lavorare nel suo laboratorio. Dopo aver viaggiato in Europa per affinare le sue tecniche pittoriche, specializzandosi in particolar modo nei paesaggi a olio, Bierstadt tornò in America e cominciò a esporre i suoi lavori in rinomate accademie, guadagnandosi un posto nella scuola pittorica dell'Hudson River. Questa scuola, nota per l'uso magistrale della luce e il suo approccio romantico alla rappresentazione della natura, conferiva alle opere un ampio respiro e un'atmosfera fantastica. L'interesse per la rappresentazione del paesaggio lo portò naturalmente verso la Rocky Mountains School of Landscape, specializzata nella riproduzione della grande catena montuosa e dell'Ovest Selvaggio. Nel 1858 Bierstadt partecipò alla spedizione di rilevamento territoriale guidata dall'esploratore, poeta e militare Frederick Lander. Questa missione, commissionata dal governo americano, aveva lo scopo di individuare i percorsi migliori per la costruzione della futura ferrovia del Pacifico. Il viaggio, che durò otto mesi, attraversò il Kansas, il Nebraska e il Wyoming, lungo la catena del Wind River. Gli scenari mozzafiato che il giovane artista incontrò lo colpirono così profondamente da spingerlo a lasciare il gruppo di Lander per proseguire da solo. Iniziò a esplorare e a raccogliere spunti, affascinato dalla natura e dalle località pittoresche, che ritraeva indettagliati schizzi. Al ritorno nell'est tradusse questi schizzi in grandi dipinti a olio. Attratto dagli usi e dai costumi degli indiani non ostili incontrati lungo il percorso, Bierstadt cercò di catturarli fedelmente nei suoi bozzetti. Da questa prima spedizione derivarono alcune delle sue opere più celebri, fra cui Lander's Peak, che fu venduto all'asta nel 1865 per la considerevole somma di 25.000 dollari. Lo scoppio della guerra civile impedì a Bierstadt di intraprendere le nuove escursioni che tanto desiderava. Solo nel 1863 ebbe l'opportunità di partire per un nuovo viaggio, questa volta in compagnia dell'amico e scrittore Fitzhugh Ludlow. Partirono da New York con un gruppo di esploratori e dopo aver prelevato la moglie di Ludlow, Rosalie Osborne, a St. Louis, attraversarono nuovamente il Kansas e il Nebraska, lungo la storica via delle carovane verso l'Oregon, che spesso ospitava famiglie di origine tedesca, come quella del pittore. Durante il viaggio Bierstadt realizzò numerosi schizzi a matita dei convogli di emigranti, che ispirarono opere importanti come Emigrants Crossing the Plains e The Oregon Trail. La traversata li permise anche di raccogliere materiali per il dipinto The Last of the Buffalo, che ritrae una caccia al bisonte nelle pianure del Nebraska. Dirigendosi verso Denver, lungo il fiume South Platte, il gruppo si avventurò nelle spettacolari montagne rocciose, facendo una deviazione verso il Pikes Peak, il suggestivo Garden of the Gods e l'area di Colorado Springs. La trasferta fu facilitata da un carro coperto messo a disposizione dal governatore del Colorado, John Evans, che permise a Bierstadt di fermarsi a ogni angolo panoramico per effettuare schizzi e studi. Visitarono Fountain Creek, con le sue sorgenti che si gettano nell'Arkansas River, esplorarono grotte sotterranee e scalarono picchi che offrivano panorami maestosi. Una volta tornato a Denver, e ancora in cerca di montagne speciali da ritrarre, Albert si separò temporaneamente dal gruppo e fu accompagnato dal giornalista William Byers a Idaho Springs e ai Chicago Lakes. Durante questa escursione Bierstadt disegnò una montagna ancora senza nome, che battezzò Mount Rosalie, in omaggio alla moglie di Ludlow, che sposò nel 1866. La sua guida, tuttavia, fraintese il nome, pensando che Rosalie fosse un riferimento al Monte Rosa, una vetta europea celebre. In seguito Bierstadt realizzò il dipinto a olio Storm in the Rocky Mountains, Mount Rosalie, diventato famoso per il drammatico contrasto fra le nubi tempestose che avvolgono la valle e i raggi di luce che, a sprazzi, illuminano cervi, cavalli e indiani che scorrono liberi fra boschi sorgenti e laghetti. Il viaggio proseguì verso la California, dove Bierstadt realizzò bozzetti di spettacolari vedute delle Sierras, che successivamente confluirono in dipinti come Among the Sierra Nevada. Nonostante la meticolosa attenzione ai particolari e ai dettagli dei panorami, spesso supportata anche dall'uso della macchina fotografica per garantire maggiore verosimiglianza, l'anima di Bierstadt, che in America ottenne fama e ricchezza, rimase profondamente radicata nella tradizione europea e romantica. Le sue opere riflettevano chiaramente questa inclinazione. Quando tornava nel suo studio cittadino per trasformare gli schizzi in quadri, le già spettacolari vedute delle montagne rocciose assumevano una dimensione epica e drammatica, quasi visionaria. Laghi placidi e trasparenti, foreste lussureggianti popolate da alci, cervi e orsi, ai piedi di maestose catene montuose interrotte da cascate scintillanti. Tutto era immerso in una luminosità irreale e quasi mistica, capace di sfumare i contorni delle vette e fonderli con nuvole e vapori turbolenti, distorcendo il senso della proporzione in un magico controluce. Questa trasfigurazione romantica dei paesaggi reali, esagerata nelle dimensioni e avvolta in una luminosità eterea, caratterizzata da giochi di luce scintillanti, definiva lo stile di Albert Bierstadt. Opere come Looking Down Yosemite Valley esemplificano questo stile evocativo e spettacolare, che, sebbene affascinante e sublime, risultava a volte estraneo alla sensibilità più prosaica del pubblico americano dell'epoca.